E ancora sulla tematica REST JSON, ho chiesto ad Ivan di spiegarci anche come si consumano servizi RESTful, prendendo spunto da quanto pubblicato da bravissimo Uwe Fezzer, noto in Twitter come atse38, del suo blog Tuibapp. Ed ora un esempio di applicazione che utilizza sempre ABAP e un servizio RESTful per poter recuperare delle informazioni da un servizio esterno, quindi il nostro sistema SAP sarà un fruitore, quindi un consumer dei servizi REST, mentre il servizio in questo caso Twitter sarà il provider dei servizi REST. In questo primo esempio vediamo come poter dialogare con un servizio RESTful in lettura, quindi richiediamo dei dati al servizio RESTful esposto da Tuibapp. Per questo esempio usiamo quindi una classe creata sul codex change ZTweibapp, che utilizza anche delle classi ZOout e ZJSON per poter interrogare quindi il servizio RESTful di Twitter. Abbiamo un semplice report, in questo semplice report non facciamo altro che creare una connessione verso Twitter, quindi farci autenticare attraverso il servizio di Oout a Twitter e a richiedere la corrente timeline della mia utenza. Proviamo ad eseguire il report, ho inserito un breakpoint così da vedere che cosa succede effettivamente al momento della richiesta. Una volta effettuato il logon, eseguiamo la richiesta, quindi stiamo interrogando il servizio REST di Twitter, in questo caso noi andiamo a fare una GET su questo URL che richiede la timeline. La risposta del servizio Twitter sarà presente in questo data object ABAP, quindi abbiamo la stringa JSON così come la conosciamo, con tutte le informazioni che ci servono. Non facciamo altro che attraverso la classe ZJSON sempre presente sul codex change, andiamo a, in questo caso, a creare un oggetto ABAP, quindi una tabella interna, quindi tante strutture che vengono appese su una tabella interna, da una stringa JSON. Quindi proseguiamo e il report ABAP ci propone la timeline, la mia corrente timeline. Per esempio possiamo vedere che siamo in diretta, per esempio abbiamo questo Twitter, ops, shewag, eccetera, eccetera, che è questo Twitter. Allo stesso modo abbiamo anche un altro esempio in cui noi andiamo sempre a utilizzare un servizio RESTful esposto da Twitter, ma in questo caso andiamo a compiere un'azione di scrittura, quindi andiamo a eseguire un'azione sul server, a aggiornare qualcosa. In questo caso aggiorneremo lo status del mio account Twitter. In questo caso andiamo a eseguire sempre un logon sul sistema, inseriamo la password e questo è l'esempio dello status che voglio andare a impostare su Twitter. Stesso modo, quindi vado a richiamare il servizio di Twitter e sulla mia timeline dovrebbe comparire a momenti, ecco qua il mio tweet che ci va a indicare che sono riuscito con successo a effettuare la chiamata. Come vedete è molto semplice come andare a creare una connessione REST, ad effettuare una connessione, ad autenticarsi a un servizio RESTful su Twitter, quindi è bastato chiamare solo questo metodo e come è semplice andare in questo caso o ad aggiornare o come abbiamo visto nel report precedente andare a richiedere leggere quindi dei dati dal servizio RESTful esposto.